Il presidente dell'Ordine dei Medici, Marco Ioppi, è intervenuto nei giorni scorsi sul tema della fuga dei punti nascita di periferia. Per qualcuno segno di un destino ormai segnato, per altri un fenomeno transitorio che si risolverà appena tornerà la disponibilità dei medici anestesisti. Ioppi ha sottolineato come sia necessario tornare lo spirito della legge 16 del 2010, legge che creava il sistema ospedaliero provinciale. Tanti servizi sparsi sul territorio, ma parte di un'unica entità. Per Ioppi il tema non è la sopravvivenza del singolo punto nascita, ma il funzionamento dell'intera azienda sanitaria. Occorre superare questa fase di caos e tornare a creare fiducia nel sistema, garantendo a tutti i cittadini che vivono in città e nelle valli un accesso ai servizi sanitari di base, ma anche un'efficace rete di protezione in caso di emergenza. Il rischio è, secondo Ioppi, quello di creare sempre nuova frustrazione nei medici che operano in periferia e un aggravio di lavoro al centro, dove la situazione è già difficile, e fomentare le inquietudini dei pazienti. I numeri ridotti al lumicino delle ultime settimane, un parto a Cavalese, due a Tione e cinque ad Arco, non sono comunque un bel biglietto da visita per chiedere a Roma il salvataggio dei tre reparti di natalità. Sempre in riferimento alla questione sanità, il dottor Tamanini di Arco ha fatto pervenire alla stampa una sua opinione. Gli abbiamo chiesto di leggerla di persona. L'altro giorno non sapevo cosa fare e ho seguito tutta la polemica sugli ospedali. È una materia della quale, in sottoscritto, pur essendo farmacista, me ne sono occupato, come avevo detto in una trasmissione, per merito di un americano, mio carissimo amico Dalsanto, il quale è stato uno dei grandi anestesisti americani. E ho scritto un articolo, non sapevo cosa fare, dico ah che scrivo un articolo. Ho scritto questo articolo, questa mattina leggo il giornale Ladige e c'è su Tamanini bisogna chiudere gli ospedali, titolo chiusura degli ospedali. Poi il mio articolo viene sintetizzato in 3-4 punti. Allora se questo mi ha fatto girare un po' l'anima, mi permetto di leggere, cosa che non è mia abitudine, perché normalmente non mi piace leggere, ma vi leggo quanto io ho scritto con qualche breve commento. Uno dei quesiti che pongo a coloro che parlano di ospedali è il seguente. Ti interessa di più la salute o l'ospedale sotto casa? La risposta unanime è la salute. Per le necessità legate alla salute ti rivolgi solo in Trentino o vuoi anche frequentemente fuori provincia? Sindaci che con fassia tricolore manifestavano contro la chiusura del loro ospedale ammettevano che per i loro familiari spesso si erano rivolti e si rivolgevano a strutture di Milano, Negrar, Padova, Verona. Domanda Se una ha delle doglie in piazza del Duomo a Milano All'ospedale a due passi o come minimo a distanza a Rovereto Trento e a Roma e a Bologna e a Venezia con le barche? Altra domanda Un valido primario di ostetricia o anche di altre, ma diremmo di ostetricia o di chirurgia Lascierebbe un reparto con sei o settecento parti l'anno per andare all'ospedale di Tione, di Cless, di Cavalese o di Borgo? Medici validi di altre specialità Sono disponibili a trasferirsi per dirigere reparti con scarsa affluenza e quindi poca casistica? La risposta è no! Quando si parla di numero di parti non si parla solo di parti ma si deve fare riferimento anche a una serie di patologie ad esse legate come l'asportazione delle ovaie, le cisti ovariche, l'apertura delle tubiche e così di seguito Quando in questi ospedali i primari vanno in ferie o in malattia spesso i malati, questo non lo si scrive, non lo si dice, vengono dirottati su altre strutture o vengono primari a scavalco Come mai il problema ospedale i politici non lo prendono per le corna e non hanno il coraggio di chiudere come a Siena dove c'è un direttore trentino che ha diretto questi ospedali questi ospedali i politici non li prendono come abbiamo detto per le corna e non hanno il coraggio di chiudere ripeto come a Siena che da 12 ospedali li hanno ridotti a 2 e pensate, lì non ci sono né forme ambigue né forme false perché c'è un certo governo che è di sinistra in mano ai comunisti e quindi non ci sono tutte queste falsità forse come da noi è anche vero che superare i campanellismi non è cosa facile ci vuole gente con le palle e non gente che non ha le palle e che pensano solo alla loro carega perché questi politici invece che andare in giro per l'estero a fare interviste, a fare congressi eccetera eccetera e visite molto inutili non vanno come più volte ho sostenuto da queste pagine in America e non solo ma anche a Cuba per i simpatizzanti di sinistra dove c'è un ospedale magnifico dove gli ospedali sono considerati alla stregua di fabbriche che lavorano a ciclo continuo quando dico fabbriche tu ti sensispa perché paragonare l'acquafil e la cartiera di riva a un ospedale ma siccome uno non è che ha il gale infarto solamente alle 10 della mattina un altro non è che paternisce solamente alle 10 della mattina c'è chi ha il gale infarto alle 3 alle 1 ci sono delle cose che sono imprevedibili e il personale lavora a turni di 24 ore su 24 sabato e domenica compresi punto di domanda da noi le urgenze si fanno perché se no gli ospedali si fermano venerdì pomeriggio e riprendono lunedì mattina in America e a Cuba no in America e Cuba vanno diversamente qui devono andare i nostri politici e finalmente copiare non è un disonore copiare cose che sono giuste l'equip primario X inizia alle 8 del mattino fino alle 16 del pomeriggio l'equip del primario Y inizia alle 16 e finisce alle 24 alle 24 entra il primario Z che chiude il ciclo fino alle 8 della mattina seguente ogni primario passa le consegne e affida i suoi pazienti al collega subentrante che li tratterà come li avesse curati lui e non attua sgambetti né gelosie professionali questo è il sistema allora proseguiamo, voltiamo pagina quanto sopraesposto vale sia per la medicina, per la gicologia, l'ortopedia e quant'altro il Santa Chiara se attuasse tale sistema sarebbe in grado di fonteggiare da solo tutto l'apparato chirurgico e di altre specialità il vero problema della medicina è la medicina di base e le guardie mediche tutti lo sanno e nessuno ha il coraggio di parlarne un tempo e non secoli fa il medico che andava sul territorio si doveva fare un tirocinio ospedalieri di sei, dico sei anni, i medici non erano ridotti a quattro passacarte come oggi ma chi andava a fare il medico di base si faceva sei anni ma perché non le dicono queste cose? c'è da considerare anche un problema economico non c'è un debito pubblico in diminuzione c'è un debito pubblico che in costante aumentò quindi bisogna fare tagli altrimenti il sistema salta dicono sempre i stati progrimiti i primari sono affiancati da un regioniere, un economista che valuta gli acquisti che si devono ammortizzare altrimenti si acquista risparmiando o non si acquista e si manda da un'altra parte si acquista e si pagano gli addetti su criteri di bilancio a pareggio non è ammesso il deficit di esercizio e se da tutti una registrata non si può dare degli stipendi e gestire un'azienda se non è in grado di gestirsi perché altrimenti si chiude bisogna andare in un'altra struttura che in grado non si può costantemente fare debiti e chi è che li paga? gli operai perché le tasse per la maggior parte sono prese dagli operai e sono gli operai che pagano tutta questa struttura qui alcuni ospedali vanno chiusi senza ipocrisie altrimenti li chiuderà con il passare degli anni la selezione tecnologica è i costi delle nuove tecnologie che sono dietro l'angolo non li chiuderanno i politici non li chiuderanno i medici ma ci saranno tecnologie tali per cui non potranno essere messe dappertutto perché saranno così costose e non solo costose ma saranno così difficili da adoperare che bisognerà avere della gente capace di adoperare e che li adopera frequentemente oggi è di gran moda il calcio se chi non parla de balon non è no applichiamo quindi anche noi la sua principale regola chi anticipa segna gol chiuderemo chiuderemo chiuderemo